E ci ritroviamo con l'edizione di Monza dove brillano le scuole nell'annuale classifica di Eduscopio. Il liceo classico Don Carlo Gnocchi batte persino il Berset e il Sacro Cuore di Milano, lo scientifico migliore a Cesano Maderno. E Most Fast Future chiude la due giorni di confronto sui temi di mobilità e sostenibilità firmati due protocolli su edilizie rinnovabili e via libera al progetto di comunità energetica. E sciopero e corteo per le vie del centro di Monza di CGL Will previsto per venerdì 24 novembre. Contrastiamo, dicono i sindacati, una legge di bilancio che non tiene conto dell'impoverimento dei lavoratori. Partiamo subito con la classifica di Eduscopio. La miglior scuola d'Italia si conferma anche quest'anno liceo scientifico delle scienze applicate con l'informatica al posto del latino Nervi Ferrari di Morbegno in provincia di Sondrio. Ma è soprattutto il risultato degli istituti monzesi a certificare la qualità della formazione brianzola che supera a mani basse i risultati di Milano. Il miglior liceo classico di Monza e Brianza è il Don Carlo Gnocchi di Karate seguito dal Banfi di Vimercate. Solo dopo arrivano i prestigiosi Bersche e Sacorcuore di Milano staccati di oltre cinque punti. E quanto emerge da Eduscopio, decima edizione della mappa interattiva delle scuole superiori d'Italia redatta dalla Fondazione Agnelli in base agli esiti universitari, esami sostenuti e media dei voti e lavorativi, tasso di occupazione e coerenza fra studio e lavoro a un anno dal diploma. Uno strumento pensato per aiutare le famiglie nella scelta della scuola in vista delle iscrizioni. Il gruppo di lavoro ha analizzato i risultati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020. Il miglior liceo scientifico di Monza e Brianza è l'Iris Versare di Cesano Maderno, seguito dal Paolo Frisi di Monza e dal Don Gnocchi di Karate. Il Banfi di Vimercate per le scienze applicate è sempre il Gnocchi per le scienze umane, il Gandhi di Besana come linguistico e tecnico economico. I risultati sembrano comunque inevitabilmente aver risentito della chiusura della scuola a causa dell'emergenza Covid. Nonostante i ragazzi abbiano ottenuto voti più alti del solito alla maturità, con l'esame svolto solo con un colloquio orale, fra i neodiplomati del 2020 che si sono iscritti subito all'università è aumentata la percentuale di chi non ha dato nemmeno un esame durante il primo anno accademico. E torniamo subito in studio con la cronaca grave incidente. Ieri alle 22.45 ha smatevelato una vettura che si è ribaltata in via alle rimembranze. l'automobilista è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Raffaele, sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. E' incendio oggi all'interno della piattaforma ecologica di Viale delle Industrie a Monza. Prendere fuoco un cassone contenente scarti, l'autopompe, l'autobotte provenienti dalla sede centrale di Monza dei Vigili del Fuoco hanno spento il rogo intervento anche all'inviate in via Vivaldi per l'incendio a una canna fumaria. E proseguiamo ora il nostro telegiornale con Monza Fast Future. Al centro i temi della sostenibilità, dell'energia rinnovabile e della mobilità con tanti tavoli tematici con aziende, istituzioni e stakeholder pubblici e privati per condividere buone pratiche e piani per il futuro. Sono state due intense giornate di talk istituzionali alla Villa Reale di Monza per l'evento conclusivo della prima edizione del Festival della Sostenibilità Monza Fast Future. Dopo gli incontri in piazza e con i più giovani, la parola è passata a chi, nei propri specifici settori, porta avanti i temi della sostenibilità ogni giorno. Ieri giornata dedicata alla mobilità, visto la partecipazione di tante imprese, tanti esperti, personaggi del mondo accademico che si sono confrontati sulle sfide della mobilità. Abbiamo avuto tra i nostri ospiti anche l'assessori di tre importanti città che sono Bologna, a Milano e Bergamo. È stato firmato un importante protocollo insieme a Asimpre di Lance che prevede l'introduzione di una serie di buone pratiche e appunto di idee, di linee guida sulla sostenibilità all'interno del settore dell'edilizia e dei cantieri. Oggi invece sarà firmato un altro importante protocollo, questa volta tra il nostro settore all'ambiente del Comune di Monza e RSE e Brianza Acque per la ricerca nell'ambito energetico delle energie rinnovabili e dell'idrogeno. Una o due giorni anche di impegni presi, con novità per la stessa città di Monza, a partire dal progetto delle comunità energetiche rinnovabili. Poco prima infatti del convegno sulle comunità energetiche rinnovabili è stato annunciato, grazie all'uscita dell'apposito atto normativo, che il progetto di comunità energetica presentato dal Comune di Monza e Regione Lombardia è stato ammesso alla seconda fase. Un'occasione per il confronto anche con rappresentanti del Parlamento, di Regione Lombardia e della provincia. La sostenibilità non può contemplare solo gli interessi dell'uomo e delle sue attività, ma deve passare attraverso ad un rinnovato patto con l'ambiente, perché solo in questo senso si può pensare di dare un futuro alle nuove generazioni, che hanno diritto di avere in dote un paese, un pianeta, che non sia impoverito, che non sia avvelenato, ma che sia nelle migliori delle condizioni. Sono due giorni molto importanti, queste qui in Villa Reale, tanti relatori di qualità, un confronto su un tema centrale, che è quello della sostenibilità, che ormai deve essere il faro di ispirazione sia dei nostri imprenditori, ma anche degli amministratori pubblici. Per noi di Regione Lombardia la sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. Soltanto così, in maniera davvero concreta, possiamo trovare un equilibrio per il futuro del nostro ambiente. Marco Odorisio, questore di Monza, un anno e dieci mesi in questa città, che eredità lascia al suo successore? No, sicuramente lascio con dispiacere Monza, la Brianza, la Questura, perché dopo un anno e dieci mesi è inevitabile che si creino proprio quei rapporti dal punto di vista umano, quindi non solo professionale. Poi io mi affeziono, quindi mi sono immedesimato con le persone, con i cittadini, mi sento monzese, tante le situazioni che abbiamo gestito insieme. Il mio ringraziamento va, ripeto, poi a tutte le istituzioni con le quali veramente si è fatto un grande lavoro di squadra. Il mio ringraziamento va alle comunità del territorio, ai cittadini che già loro con il loro agire improntato alla legalità rispetto alle regole sono la prima base per una sicurezza non solo percepita, ma per una sicurezza reale. Là dove c'erano situazioni da approfondire, dallo spaccio di droga, ricordiamo gli artigianelli, piuttosto che altre situazioni, siamo intervenuti risolvendo le situazioni. Poi quando si parla di sicurezza a me piace sottolineare che bisogna essere un po' dei marciatori, volendo fare una metafora sportiva. Bisogna giorno, ogni giorno, con tutti quegli strumenti che ci sono, applicarli per fare in modo che questi fenomeni poi non possano degenerare e diventare allarmistici. L'attenzione massima, ormai sulle quotidianità, i giovani, i ragazzi, i fenomeni di devianza giovanile. Su Monza non abbiamo il fenomeno baby gang, abbiamo, ripeto, l'attenzione sui giovani, dove costantemente viene fatto un lavoro di prevenzione partendo nelle scuole, nelle famiglie. Tanto si è fatto, tanto si farà e veramente devo ringraziare tutti. Sono un appassionato di calcio, a me piace il calcio e quindi anche poter essere stato testimone, dopo 110 anni di storia, alla promozione del calcio Monza in Serie A. Veramente questa è stata una bella esperienza, una bella soddisfazione. Anche un lavoro di gruppo, anche lì, trattandosi del primo campionato in Serie A. Quindi tutto ciò che riguardava la predisposizione, quindi abbiamo lavorato col calcio Monza, con l'amministrazione comunale, con la prefettura, con tutti. Quindi flussi di viabilità, cercare di contenere al massimo il disagio nei confronti dei cittadini e quindi siamo riusciti, poi in corso d'opera, anche con dei miglioramenti, a fare in modo anche che la città potesse godere, perché è un bel riconoscimento, di una squadra in Serie A, la quale faccio tutti i migliori in bocca al lupo. Dopo lo sciopero del 17 novembre che ha riguardato i trasporti, la scuola e il pubblico impiego, CGL e Will si danno appuntamento anche in Brianza, venerdì 24 novembre, per lo sciopero di tutti gli altri settori delle regioni del nord. Organizzata una manifestazione a Monza con partenza alle 9 da Piazza Castello. Un corteo sfilerà tra le vie del centro per poi confluire in Piazza Roma, in Arengario, dove sarà già presente un presidio e dove interverranno i rappresentanti dei lavoratori di alcune aziende e dell'Abrianza, gli attivisti pensionati di CGL e Will, per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre future giovani, a sostegno di un'altra politica economica, sociale e contrattuale ormai urgente e necessaria, spiegano le due organizzazioni sindacali. Siamo sulle strade per ragionare con le persone e sostenere le nostre proposte per recuperare potere di acquisto per salari e pensioni, contro la precarietà, per un fisco equo, per l'adeguato finanziamento dai servizi pubblici, a partire da sanità e istruzione e sulle politiche industriali. Sono proposte che riteniamo utili per contrastare le disuguaglianze e aiutare il nostro paese a crescere, dichiara Walter Palvarini, segretario generale della CGL in Brianza. Le politiche liberiste fanno arricchire pochi privilegiati e impoveriscono progressivamente la maggioranza delle persone. Chiediamo il rinnovo dei contratti, interventi sulla sicurezza del lavoro e di rivalutare le pensioni. Rappresentiamo tutte quelle persone le cui pensioni e i cui salari sono stati mangiati dall'inflazione. C'è un disagio che cresce anche in Brianza, aggiunge Giancarlo Pagani, coordinatore territoriale della UIL. Vogliamo anche procedere a superare le rigidità e i parametri della legge Fornero sulle pensioni attraverso un confronto serio e partecipato. Il governo però non solo non discute, ma riesce persino a peggiorare quella legge, colpendo soprattutto giovani e donne. E con questo da Monza è tutto. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sul nostro canale. Grazie a tutti.